Dalla polizia locale, che passa dal sindaco al vice di Michele, alla cultura, che è lo stesso di Michele, passa a Maria Grazia Vercesi. A un anno e mezzo dalla fine del mandato, il sindaco di Stradella Alessandro Cantù ha deciso di rimescolare le deleghe assegnate ad inizio legislatura. La decisione è stata presa, ha spiegato Cantù in consiglio, a fronte dell'esperienza maturata in questi tre anni e mezzo, ma la redistribuzione ha tenuto conto anche delle mutate disponibilità di tempo degli assessori. Rimangono immutate, così in pratica solo quelle assegnate a Frustagli e Vecchio, mentre per Reguzzi di Michele e Vercesi cambiano le cose. La delega alla polizia locale, così come detto, è stata assegnata al vice sindaco di Michele, che ha ottenuto anche l'ecologia, perdendo però le pari opportunità. Reguzzi perde l'ecologia ma ottiene i lavori pubblici, mentre a Maria Grazia Vercesi sono state assegnate le pari opportunità e il teatro. L'attuazione del programma passa invece al sindaco. Ho provveduto a fare una redistribuzione delle deleghe, dando all'assessore Maria Grazia Vercesi la delega specifica sul teatro sociale, che è una delega che è molto impegnativa in termini di tempo, che prima era l'assessore di Michele, in modo tale che si è liberato un po' di tempo per lui e sono riuscito a dargli la delega della polizia locale, in quanto prima detenevo io, ormai abbiamo completato quel percorso di organizzazione del personale, che come sapete si è concretizzato con l'arrivo del comandante, adesso è stato anche terminato il concorso vice comandante, quindi ormai l'organico è preparato, la squadra è al lavoro e l'assessore di Michele potrà occuparsi di questo assessorato, di queste indicazioni importanti. Io nel contempo avrò molto più tempo da dedicare ai cittadini, questo è proprio lo scopo di questa redistribuzione delle deleghe, che il sindaco che aveva due deleghe importanti e pesanti abbia più tempo per stare a contatto con i cittadini e non debba essere sempre negli uffici. L'altra delega importante che ho ridistribuito è i lavori pubblici, in quanto ormai buona parte del programma elettorale è stato fatto, ma abbiamo ancora alcune cose importanti e fondamentali da fare, grazie alla disponibilità dell'assessore Reguzzi, che ha rinunciato ad alcuni impegni lavorativi personali, ha dato disponibilità di tempo e quindi le ho dato, ho dato all'architetto Reguzzi, già assessore all'urbanistica, anche i lavori pubblici e potrà portarci alla conclusione del mandato cercando di centrare tutti gli obiettivi che ci eravamo preposti.